In anteprima assoluta per il nostro paese, la nostra testata CarpOnline ha l'opportunità di provare, vedere, presentare il nuovo mulinello Bite Runner Shimano XTA Long Cast. Questo mulinello va a sostituire quello che è stato storicamente il Big Pit Reel della Shimano, che per oltre dieci anni è stato utilizzato dagli angler di tutto il mondo. Adesso io direi, abbiamo il mulinello così come esce dalla scatola e andiamo a vederlo cercando di capire quali sono le caratteristiche. Di questo mulinello ne esistono due versioni, il Big Bite Runner che è quello nelle mie mani e il Medium Bite Runner. La differenza è nelle dimensioni e ovviamente nel peso. Il modello Big Bite Runner Long Cast pesa 790 grammi, mentre la versione più piccolina ne pesa 615. Differente anche il rapporto di recupero. Il mulinello più grande ha un rapporto 4.6 a 1, mentre il modello più piccolo 5.3 a 1, leggermente più veloce. Entrambi i mulinelli montano 5 cuscinetti, un cuscinetto nella parte dell'archetto per l'avvolgimento del filo. Entrambe le versioni ovviamente montano il sistema ARC per il perfetto avvolgimento che adesso andremo a vedere del filo o dell'intrecciato nella bobina. Sono molto interessanti le capienze delle bobine stesse. La Shimano ci dà due indicazioni. Un'indicazione per il nylon, quindi con i diametri tradizionali e una capacità per quanto riguarda gli intrecciati. È interessante notare come per un filo dello 0.35 nella versione Big Bite Runner possono entrare 550 metri di filo, mentre per il modello più piccolo possono entrare oltre 450 metri di filo. I valori aumentano naturalmente nel momento in cui andiamo a parlare di intrecciati. L'intrecciato di riferimento è il Power Pro, che è un prodotto distribuito da Shimano. I dati sono veramente importanti. Possiamo pensare che entrano 760 metri di intrecciato dello 0.23, un equivalente di un 30-35 libre, mentre ne entrano 410 metri. Nella versione più piccolina, il Medium Bite Runner, 0.23, 410 metri. Ora direi, andiamo a vedere il mulinello da vicino e cerchiamo di scoprirne quelle che sono le caratteristiche. E ora vediamo nel dettaglio. Cominciamo direi dal pezzo forte di questo mulinello, il Bite Runner. Lo scatto appare molto solido, molto preciso, molto accurato. La regolazione è posteriore e il regolatore micrometrico è molto molto preciso e arriva a un blocco completo della bobina. Chiaramente è una posizione che non utilizzeremo mai. Il Bite Runner si sblocca molto facilmente, la meccanica chiaramente Shimano è conosciuta per l'alta qualità, quindi si sblocca in modo estremamente facile. Andiamo a vedere la rotazione del mulinello e dopo lo vedremo carico di filo. Il mulinello non ha nessun tipo di oscillazione. La struttura del mulinello appare particolarmente solida. La bobina, abbiamo detto, molto capiente, con il line clip molto utile quando dobbiamo interrompere l'azione di pesca o per prendere delle misurazioni. Frizione micrometrica. La possiamo presettare su un valore di combattimento in funzione del nylon e dell'intrecciato che stiamo utilizzando. Dopodiché gran parte del lavoro andrà svolto chiaramente dal Bite Runner. Adesso andiamo a vedere la versione Medium del Bite Runner che è stato caricato con un filo dello 0,30. Quindi vedremo come viene avvolto il filo sulla bobina. Effettueremo un paio di lanci cercando di assaggiare questo mulinello nelle fasi di recupero e poi lo metteremo in pesca e se dovesse arrivare anche una bella preda andremo ad analizzarlo nella fase di combattimento. Questa è la versione Medium del nuovo Bite Runner. Molto bilanciata, molto piccola, direi un mulinello universale adatto alla maggior parte delle situazioni che non dovessero essere estreme in cui veramente dobbiamo portare l'esca delle distanze siderali. Abbiamo caricato con un filo dello 0,30, ho messo uno shock leader dello 0,50 giusto per la mia sicurezza personale e le persone che ho vicino. Vediamo subito la qualità dell'imbobinamento che è assolutamente perfetta nello stile di Shimano. Quindi nulla di nuovo sotto questo fronte. Andiamo a effettuare un paio di lanci per vedere come la bobina opera, come è il recupero, qual è la qualità del recupero. Dopodiché io direi aspettiamo di avere una cattura sperando di averla. Quindi non cerchiamo distanza, ma cerchiamo di vedere semplicemente come reagisce. eccellente. Potete vedere il filo esce in modo molto, molto ordinato e adesso vediamo recuperando questo piombo da circa 100 grammi, molto fluido, non comporta nessuna fatica al recupero. Il mulinello è molto bilanciato sulla canna, come dicevo non ha rotazioni laterali, oscillazioni. D'altra parte è stato studiato il sistema per ridurre al massimo, anzi eliminare le rotazioni laterali. La bobina si riempie in un modo che è anche molto piacevole a vedersi. Ripeto, sto utilizzando un nylon dello 0,30 circa. Le distanze sono di lancio non importanti. io direi questo è un mulinello che vedo molto bene, come dicevo prima, per la maggior parte delle situazioni di pesca, compreso il long range. È chiaro che se abbiamo bisogno di andare oltre una certa distanza, quei laghi grandissimi del centro Italia o laddove bisogna superare i 350-400 metri, questo mulinello può essere sostituito, viene sostituito da quest'altra versione più grande. Io lavorerei bene con l'intrecciato con una versione così grande, perché abbiamo una capacità di filo stupefacente. Il nylon qui si comporta molto bene, quindi per una pesca generica anche in cava il medium mi sembra una buona scelta. grande, ripeto, il big per coloro che cercano veramente grandi distanze. In fiume io non avrei tanti problemi, personalmente nella pesca in fiume andare tranquillamente nel medium che mi sembra un buon compromesso tra dimensioni e potenza. È quel classico mulinello intermedio universale che ci permette di affrontare facilmente anche lanci con pietre da 450-500 grammi senza avere grandi difficoltà. Direi che come presentazione di questo mulinello concluderei qui, voglio ringraziare Shimano per la grande opportunità che ci ha dato, perché essere i primi in anteprima a vedere questi due nuovi prodotti che saranno il fiore all'occhiello della grande casa nipponica è un privilegio, quindi li ringrazio sinceramente, così come ringrazio Luca Foroni della Mincio che ci ha messo a disposizione ancora una volta il lago e la sua amicizia per poter arrivare appunto a potervi presentare questi nuovi Big Bike Runner XTA Shimano.